Ciao ragazzi, salve a tutti, ben ritrovati, come state? Spero tutto bene. Oggi torniamo a parlare di calcio, perché ho voglia di parlare un po' insieme a voi di quella che potrebbe essere la probabile formazione non della Juventus per la prossima partita, quindi quella contro la Fiorentina, ma un'evoluzione tattica che la Juventus potrebbe attuare nelle prossime partite, perché abbiamo alcune riflessioni da fare sulla rosa, sul modulo e soprattutto sui giocatori che dovrebbero poi trascinare la Juve e farle fare la differenza in questo finale di stagione. Prima di tutto vi ricordo che tra poco esce un nuovo episodio di Tutti i Teorici, ci vediamo il 15 alle 15 sul canale, il primo episodio è andato molto bene, vi ringrazio per il supporto, soprattutto per le critiche costruttive, ci sono diversi feedback che avevamo già inquadrato anche noi, abbiamo già provveduto a migliorare a partire dal secondo episodio, esce tra meno di una settimana e quindi ci vediamo sul canale, magari vi lascio il link in descrizione o comunque lo trovate anche nell'home page del canale YouTube, anzi, vi invito a indovinare quale sarà il secondo protagonista, vi dico che non sarà presente Luca Mastrangelo all'interno di questo episodio, saremo io, Simone e l'ospite, quindi vi aspettiamo il 15 alle 15 sul canale di Tutti i Teorici. Allora, dicevo, parliamo di calcio sì, però prima mi piacerebbe ascoltare le parole del Ministro dello Sport e i Giovani, Andrea Bodi, a proposito di quella che è stata un po' la discussione legata al PM Santoriello di cui abbiamo discusso nei giorni scorsi, quindi vi faccio ascoltare le parole di Abodi in modo che possiate avere un quadro ben chiaro della situazione, eccole qua. Il principio di responsabilità vale sempre, io non voglio neanche sembrare poi un soggetto istituzionale che esprime giudizi, è talmente evidente, anche se peschiamo nel tempo, di inopportunità, anche in momenti in cui uno pensa di poterselo permettere di entrare con un linguaggio che non è istituzionale e non è consono con il ruolo professionale che si svolge, che ogni parola in più sarebbe l'opportuna da parte mia. Ministro, un brevemente, la settimana l'azienda ricominciano le coppe europee di calcio, cosa augurano le squadre italiane per Champions League ed Europa League? Sì, bisogna andare avanti il più possibile, sapendo che la competizione europea è certamente sempre un po' complicata, di l'altro che gli altri ricorrono e noi spesso camminiamo. Allora, una body abbastanza chiaro in quelle che sono state le parole, anzi ho apprezzato molto questo intervento, dice, vabbè intanto sulle coppe europee gli altri corrono e noi spesso camminiamo, speriamo che possa andare avanti il più possibile e questa è la parte in cui anche lui ha parlato di sport, dall'altra ho apprezzato molto proprio perché vanno a ricalcare anche un po' la mia presa di posizione, c'è poco da aggiungere, è un video che si commenta da solo, una persona con un incarico di un certo tipo dovrebbe essere professionale sempre, non quando gli fa comodo, ci sono delle cose che non si possono dire nemmeno per scherzo e sono parole inadeguate. Poi abbiamo visto, non ho portato video a proposito perché poi si è giocato e preferisco sempre parlare del calcio giocato, ma abbiamo visto anche alcuni componenti del collegio di garanzia del CONI e alcune frasi social non proprio fantastiche, chi dà del bimbo minchia a Cristiano Ronaldo, chi critica la politica legata ad Andrea Agnelli, quindi Super Lega e gestione economica, chi esagera addirittura con dei vari UVM, quindi tutti i personaggi che in teoria dovrebbero mantenere un certo livello di conversazione all'interno del mondo dello sport se si ricopre una professione, una posizione di così alto prestigio. Ieri ascoltavo il video di Borromeo Agresti che si domandava, è questo il meglio che abbiamo da offrire all'interno dell'Italia per quanto riguarda queste posizioni? Ed è una domanda che rivolgo anche a voi, provo a citarle su parole perché secondo me sono state impeccabili, quindi qualcosa si sta muovendo, ci si sta rendendo conto che probabilmente dentro la giustizia sportiva ci sono alcuni personaggi che non operano nel modo moralmente corretto, questo è un po' quello che secondo me è emerso negli ultimi giorni. Andiamo avanti, vediamo cosa accadrà, vediamo se lato governo ci saranno delle prese di posizione come quella di Abodi, vediamo se ci saranno delle cariche che verranno lasciate vacanti, già oggi si mormora di Santoriello che potrebbe tirarsi indietro, vediamo se questa cosa sarà confermata oppure no. Ragazzi io più che altro volevo parlare e discutere insieme a voi lasciando da parte un po' queste cose che di calcio hanno poco e niente da cui far vedere, parlare di quelle che potrebbero essere le modifiche della Juventus, perché si potrebbe tornare a difesa 4, una domanda che mi fate tante volte, si potrebbe rimanere sulla difesa 3 ma modificando il sistema di gioco, quindi ho cercato di creare una situazione grafica, una sorta di tier list, va bene, indisponibili allegri per forze cose perché non può giocare, in questo momento i giocatori indisponibili per la Juventus sono Pogba che ci auguriamo possa rientrare presto, Milik, abbiamo fuori per un po' di tempo probabilmente, Miretti, anche lui escluse lesioni però non sappiamo bene quando rientrerà e Paredes, in realtà c'è pure Leonardo Bonucci se proprio vogliamo, ma Bonucci in teoria dovrebbe essere sulla via del recupero come ci ha fatto capire Massimiliano Allegri e lo stesso Paredes aveva un fastidio alla zampa d'oca, non dovrebbe essere troppo grave ma in questo momento non sembra disponibile, quindi Bonucci e Paredes sono dei punti interrogativi se vogliamo, ma cosa salta all'occhio guardando la prima linea degli indisponibili? Che ben tre indisponibili su quattro sono centrocampisti. E allora questa è una tier list per quanto riguarda un'ipotetica difesa a quattro, perché? Perché abbiamo i terzini difensori centrali, va bene, i portieri sono quelli, più che altro nei difensori centrali dicevamo Bonucci forse ancora negli indisponibili e nei terzini abbiamo Quadrado, De Sciglio, Danilo e Alexandro, con Danilo che abbiamo visto ricoprire anche in maniera ottima la posizione di centrale, se Bonucci non è disponibile immagino che Bremere e Danilo possa andare a formare quella coppia di difensori centrali, andiamo a scaricarci molto sui terzini dal punto di vista numerico, perché? Perché Quadrado ai suoi anni, alla sua età l'abbiamo visto, non il Quadrado degli altri anni. De Sciglio ne parlavamo anche ieri, in questo momento ha una forma fisica un po' precaria, se proprio proprio, e Alexandro, quando viene messo sull'esterno, fa delle prestazioni completamente differenti rispetto a quando viene schierato come braccetto di sinistra. Quindi lato terzini siamo messi molto male, perché ne abbiamo tre e mezzo, se vogliamo considerare anche Danilo, ma abbastanza lontani rispetto a quelle che dovrebbero essere dei terzini di spinta dei terzini moderni. Qualcuno potrebbe dirmi, e Eiling e Kostic potrebbero essere utilizzati da terzini? Secondo me no, almeno al momento. Sono due giocatori, Eiling probabilmente addirittura più offensivo rispetto a Kostic, una vera e propria ala. Kostic potrebbe fare il terzino, sta facendo l'esterno nel 3-5-2, quindi molte volte è costretto a difendere basso, tenendo una linea da 5. Stessa cosa per Eiling, quando gioca in quella posizione. Però Kostic non mi sembra né un giocatore schierabile completamente come esterno offensivo, né un giocatore schierabile come terzino in una difesa 4. Kostic mi sembra veramente un giocatore che si trova a suo agio come esterno di una difesa 3, che sia un centrocampo a 3 o che sia un centrocampo a 2. Prime punte, soltanto due, in questo momento tantissimi esterni, Chiesa, Di Maria, sulle Eiling e Kostic che possono essere utilizzati in quella posizione. Quindi vediamo che siamo sbilanciati, proprio contando i giocatori della Rosa e la Juve, contando i giocatori disponibili e indisponibili, siamo molto abbondanti sugli esterni offensivi, quindi davanti, dove però ne giocano due, e l'obiettivo è cercare di incastrare il meglio che ha a disposizione da offrire la Juventus, quindi lo spunto di Chiesa, lo strappo di Chiesa, la fantasia di Di Maria e la violenza di Vlaovic in area di rigore, questo deve essere massimizzato, se vogliamo, all'interno di un sistema di gioco che li veda tutti e tre protagonisti, quindi tra virgolette il tridente. Dico tra virgolette perché il tridente non è solo esterni offensivi. E quindi questo è un po' il dubbio, e ovviamente contando che Miretti, punto di domanda, Pogba, punto di domanda. Paredes più che punto di domanda è un punto esclamativo, perché non sappiamo quando lo entrerà, magari anche presto, ma fino adesso ha dimostrato veramente poco. E con quei tre centrocampisti che sono rimasti, che sono i centrocampisti che vi ho detto da un po' di tempo essere quelli che non toglierei mai e poi mai, inizio a vedere che una difesa 4 non può essere presa in considerazione per caratteristiche dei giocatori. Non abbiamo terzini, e se non abbiamo terzini nemmeno abbiamo centrali di così tanto livello. Abbiamo pochi centrocampisti per andare a giocare con un centrocampo a 3, probabilmente in questo momento, quindi anche il 3-5-2 può essere un punto interrogativo e abbiamo abbondanza di esterni. Quindi proviamo a ragionare su quella che potrebbe essere una difesa 3. Vediamo che è già un po' tutto più allineato, Bonucci come al solito, lo rimetto qui, però abbiamo 5 centrali più Bonucci, punto interrogativo, un po' punto esclamativo come Paredes in questo momento, 4 giocatori che possano giocare come esterni a centrocampo e in questo caso vanno a crearsi le coppie con Quadrado titolare con backup De Sciglio e con Kostic titolare con backup Iling Junior. I tre centrocampisti, tre seconde punte che in quella posizione io potrei aggiungere addirittura a Fagioli, perché secondo me Fagioli è un giocatore che può giocare addirittura in quella posizione, quindi dietro a una punta vicino ad un altro trequartista, perché Fagioli è un giocatore che può giocare sia centrocampo come Mezzala, ma secondo me anche più avanti rende al meglio, e abbiamo due prime punte. Già qua iniziamo ad avere una sorta di armonia, perché vediamo che tutti i giocatori sono divisi, se vogliamo, abbastanza in maniera univoca, anche andando a sopperire quelle che sono le essenze del momento. Però il problema rimane, e cioè abbiamo pochi centrocampisti. In questo momento abbiamo pochi centrocampisti. Perché? Perché proviamo a immaginare una sorta di centrocampo a tre di un ipotetico 4-3-3, dato che è stato preso in considerazione più di un'occasione. Viene fuori una roba del genere, dicevamo la volontà di mettere i tre davanti e la volontà di mettere i giocatori nei loro ruoli migliori. Alessandro e Quadrado sono terzini? No, non lo sono. Avrebbero più compiti difensivi rispetto a quegli offensivi, quindi una linea da quattro pura che non sale, che non spinge, che non arriva sul fondo, perché non ne ha più le caratteristiche, non ha più quel piglio di una volta né Quadrado né Alessandro, quello spunto. Bremer e Danilo, la coppia migliore che ho visto quando abbiamo giocato a quattro in questa stagione, i tre centrocampisti titolari che non si devono muovere, e i tre attaccanti. Quindi idealmente, ve lo dice uno che per tutto l'anno ha detto, ragazzi, per me il modulo più idoneo per questa Juventus è il 4-3-3, ora che invece c'è la volontà di inserire chiese di Maria, vi dico che secondo me il 4-3-3 non è più il modulo adatto, non lo è più. Anche quando siamo passati a quattro con il Napoli, ho visto una Juventus ballerina, molto ballerina, con Kostic, Terzino, che ha avuto serie difficoltà, con Alessandro che ha dovuto fare il centrale, difensivo, insieme a Bremer, con Danilo a destra, ho visto una Juventus troppo, decisamente troppo in difficoltà. Una Juventus che non mi ha dato sicurezza, e non è un caso probabilmente che anche il momento in cui la Juventus è iniziata a fare quelle otto vittorie di fila, magari non tutte convincenti, anzi, senza mai prendere gol, si era cambiato il sistema di gioco, si era andato ad adattare le caratteristiche dei giocatori, un impianto più idoneo. Quindi credo che in questo momento la difesa 4 non sia una via percorribile per un motivo legato ai giocatori disponibili, legato alle caratteristiche dei giocatori che in questo momento sono in fase calante della Juventus, i vari Bonucci, Alessandro e Quadrado, e ovviamente De Sciglio, e ovviamente Danilo, che potrebbe giocare sì come terzino destro, ma non avrebbe quella spinta naturale che dovrebbe avere un terzino in questo momento. E soprattutto a tre a centrocampo, oggi secondo me è molto complicato giocarci, perché Rabiot, Locatelli e Fagioli sono sì i tre centrocampisti titolari, a meno che tu non vada ad aggregare i vari Barrenecea o il recupero di Paredes o robi di questo tipo, inizi a essere veramente corto a centrocampo per via degli infortuni di Miretti e del recupero di Pogba che procede molto lentamente. E quindi l'idea è togliere un centrocampista, semplicemente non perché uno tra Rabiot, Locatelli e Fagioli non meriti la titolarità, perché secondo me la meritano tutti e tre, ma semplicemente perché in emergenza numerica nel reparto e con abbondanza in altri reparti, se vuoi passare alla difesa 4 potresti inventarti una roba di questo tipo, eventualmente. Con Rabiot e Locatelli a centrocampo, con Fagioli riserva che potrebbe benissimo giocare anche al posto di Di Maria come seconda punta. Ok? Quindi andare ad avere una sorta di imprinting generale di giocatori con dei vari backup, in questo momento non puoi avere 11 titolari nella Juventus, perché abbiamo visto che ci sono almeno 12-13 giocatori che hanno un rendimento alto o altri che sono necessari da far giocare perché gli altri sono peggio, e mi riferisco alla difesa, che rimane il vero punto debole della Juventus, secondo me. Il punto nel quale bisognerà veramente iniziare ad investire seriamente durante la prossima campagna acquisti, a seconda di quelle che saranno le priorità, a seconda di quelle che saranno le esigenze, a seconda di quelli che saranno gli obiettivi. Ma la difesa della Juventus, tra Alessandro, Quadrado, Bonucci, Rugani, bisogna dare un bel aggiornamento perché questi sono nomi che sono live da tanti anni e in questo momento fanno fatica perché ovviamente il tempo passa per tutti, è una cosa naturale. Però non mi sconfinfarà nemmeno questa come opzione, proprio perché, come vi dicevo prima, la difesa 4, secondo me, in questo momento, con gli indisponibili che abbiamo e con i disponibili che abbiamo e con il loro stato di forma, non può essere una via percorribile. E allora 3-5-2? No. Difesa 3? Sì. 3 centrocampisti? No. E secondo lo stesso principio di ragionamento andiamo a formare qualcosa di questo tipo. Ve lo dicevo prima, Fagioli, secondo me, lì ci può giocare in quella posizione lì. può giocare sia sul centro-destra, sia sul centro-sinistra e può essere il backup di Chiesa, di Di Maria o di Locatelli o addirittura il titolare, perché parlare dei backup di Fagioli con questa facilità, secondo me, in questo momento è molto difficile, molto complicato. Abbiamo visto che Fagioli, in questo momento, è uno dei giocatori migliori della Juventus, a mani bassissime. E forse anche il fatto che sia stato assente a Napoli dal primo minuto può essere un indizio che ci fa capire che Fagioli serve, la difesa 4 non è proprio l'ideale, metti insieme queste due cose, devi unirle anche all'esigenza del momento, gli disponibili del momento e capisci che forse questa è la Juventus migliore che puoi schierare giunti a questo punto. Tra l'altro, Rabia e Locatelli hanno dimostrato più di una volta che in un centrocampo a due possono dare il meglio di loro. Mi ricordo diverse partite, anche quella con l'Inter a un certo punto l'anno scorso dove abbiamo giocato molto bene, anche se poi Locatelli a un certo punto si è fatto male ed è entrato Zaccheria al suo posto, dove Zaccheria abbiamo fatto un partitone in una mediana a due, però credo che questa sia la Juventus più forte che si possa schierare in questa stagione, in questo momento, con questi infortunati. Poi tornerà Pogba, tornerà Miretti, tornerà Paredes, entreranno tutti nelle rotazioni. Pogba in questo momento non può avere né il ritmo, né l'intensità, né di Rabiot, né di Locatelli, né di Fagioli. Nessuno dei tre. Pogba è fermo da mesi, è fermo da luglio. Sono 5 più 2, 7 mesi che Pogba non corre, non si allena intensamente. L'allenamento è un conto, la partita è un altro, il ritmo partita è sicuramente differente e in questo momento abbiamo bisogno di giocatori con intensità maggiore. Già il nostro ritmo e la nostra intensità non sono il punto forte della Juventus. Se poi inseriamo anche un giocatore che rientra da un lungo infortunio è un problema, l'abbiamo visto anche con Chiesa, le prime partite era un po' più macchinoso, adesso ha una corsa un po' più fluida, ci sono dei momenti in cui comunque fa fatica, anche lo stesso Vlaovic l'abbiamo visto al rientro con la Lazio, ha fatto fatica, è stato fermo un centinaio di giorni e poi con la Salernetane invece sembrava già un giocatore diverso. Però il conto è stare fermo 115 giorni, un conto invece è stare fermo un numero imprecisato di mesi. Perché sì, luglio, poi se ne è preso all'allenarsi, la ricaduta, la convocazione, poi il fastidio. Allegri ce l'ha fatto capire, Pogba in questo momento è un giocatore sul quale non puoi fare affidamento. Quindi questa può essere assolutamente, secondo me, la Juve dalla quale ripartire. E attenzione che da questa formazione che stiamo vedendo, quindi 3-4-2-1, a questa, in realtà non cambia così tanto, se proprio devo dirgli la verità. Perché praticamente stiamo parlando degli stessi 11 giocatori schierati soltanto in campo in maniera differente. Come potete vedere la formazione è la medesima, da 4-2-3-1 a 3-4-2-1. Il passo è veramente breve, i giocatori sono nelle loro posizioni ideali, la difesa titolare viene ripristinata, Kostic viene riportato nella sua posizione un po' più naturale, Quadrado diventa l'ago della bilancia, un po' come era stato con Andrea Pirlo quando si cercava di fare la trasformazione a livello di formazione difensiva-offensiva. L'ultima cosa che voglio dirvi, in questo caso, quindi giocando con due trequartisti più che due esterni, hai la necessità anche di prenderti la posizione centrale, dove Chiesa non è così forte, Di Maria invece sì, l'abbiamo visto, Di Maria andando a prendere anche questa posizione libera la corsia a Quadrado, Chiesa prendendo questa posizione libera la corsia a Kostic perché stringendosi sei in grado di dare ampiezza agli esterni, anche se me la immagino più una fascia di sinistra di spinta pura, con Chiesa e Kostic che possono spingere e con il rabbio che può buttarsi dentro gli spazi perché poi a un certo punto questi devi seguire. E con Di Maria che partendo da destra entra tanto dentro il campo liberando la sovrapposizione a Quadrado, quindi anche a livello proprio di tattico ci sono delle cose che possono funzionare in questo caso. Stessa cosa con Fagioli al posto di uno di tra Chiesa e Di Maria, Fagioli poi tenderebbe a entrare più dentro il campo, tenderebbe magari anche andare un po' più a palleggiare e ovviamente dovesse giocare al posto di Chiesa, Fagioli potrebbe andare a prendersi proprio quella posizione di 3-5-2 con Vlaovic e Di Maria di Punta, però poi qua torni al problema di prima e cioè hai sempre solo tre centrocampisti disponibili al momento e se tornerà Pogba non avrà ritmo e intensità e se tornerà Paredes sarà un giocatore che in questa stagione ci ha già dimostrato abbondantemente di non essere affidabile nel punto di vista tecnico, nel punto di vista mentale probabilmente, anzi tecnico sì, mentale e fisico probabilmente, no, quindi secondo me Fagioli può giocare sì in questa posizione ma in questo momento la necessità numerica e la necessità legata al gruppo, al listone dei centrocampisti lo va a imprigionare in una sorta di ballottaggio con Rabiot e Locatelli, molto più con Locatelli perché Rabiot è un giocatore più unico per caratteristiche e Fagioli e Locatelli invece diventrebbero quei due giocatori in grado di dare più palleggio alla squadra con Fagioli che potrebbe essere quel giocatore in grado di dare anche il cambio a Chiesa di Maria che ne hanno necessità, poi ovviamente mi immagino questa posizione presa anche da Sule e questa posizione presa da Fagioli e andresti Fagioli, non so chi sia, da Fagioli in modo da andare a creare anche una sorta di continuità di giocatori giovani, di giocatori del vivaio, di giocatori che potrebbero entrare, qua potrebbe entrare Ken ovviamente al posto di Vlaovic in attesa di Milik, poi dicevamo prima Iling, Desciglio, in questo momento fanno un po' fatica i centrocampisti a trovare spazio per rifiatare, in quella posizione potreste benissimo metterci Barrenecea per qualche minuto se lo ritieni pronto e dietro in attesa di Bonucci i vari gatti e Rugani potrebbero far rifiutare Alexandro e Danilo con Perin e Pinsoglio pronti a dare il cambio a Scesni, insomma questa formazione mi sembrerà più adatta al momento per caratteristiche e per cercare di sistemare in campo tutti e tre i giocatori davanti Vlaovic, Chiese e Di Maria, l'unico penalizzato probabilmente in questo momento diventerebbe Fagioli ma ripeto non perché non si meriti il posto titolare, secondo me se lo stramerita è probabilmente il centrocampista più in forma anche se vogliamo in questo momento della Juve con Locatelli e Rabiot subito dietro, centrocampisti titolari, però c'è esigenza di darsi una regolata a centrocampo, l'infortunio di Miretti non ci voleva, le condizioni di Pogba sono quelle che sono e Paredes è il nostro punto interrogativo, fatemi sapere anche un po' le vostre impressioni qui sotto nei commenti